PIGIAMA PARTY PIGIAMA PIGIAMA io indesserò il mio preferito andiamo allora lally appendi le ghirlande completedPH turais delle collane di benvenuto per tutti quante tu deppare le torte non appena avrai controllato se i cuscini sono morbidi abbastanza non hai già controllato eh nel frattempo vado a cercare sasha per chiederle se vuole venire anche lei stascia sei invitata al mio pigiama party io indosserò il più bello io devo finire di pitturare casa se faccio in tempo vi raggiungo ok ci vediamo no non sotto la scala porta sfortuna beh non esiste la sfortuna vedi tutto a posto e ancora e guarda sfortuna dici? spero non avrai problemi al party sì certo non ci saranno problemi solo perché sono passata sotto una scala wow che meraviglia è tutto perfetto oh no che disastro va bene possiamo sistemare prima che gli altri arrivino sorpresa siamo arrivati un po' prima non abbiamo resistito dov'è il tuo pigiama? ora vado a metterlo vi piacerà bebé wow ed ora un'altra sorpresa il servizio fotografico scegliete una foto che sfortuna coni sei uscita davvero buffa non esiste la sfortuna ora cosa c'è? sì le sorprese che bella una collana e degli sticker mi piacciono sembrano quelli delle fantasy ne rimane solo uno ce lo dividiamo? tranquilla mostrami le mani posso farne altri sfortuna sfortuna non è sfortuna una scala sfortuna sfortuna sascia che succede? niente niente una sciocchezza è arrivato il momento dei racconti staventosi il bebè aprì la porta e il biberon era vuoto no oh coni sei proprio sfortunata ok ok è sfortuna ho camminato sotto una scala e sascia mi ha detto che mi avrebbe portato sfortuna ma non l'ho ascoltata ed ora sto rovinando il party ma ehi so come far sparire la sfortuna devi saltare all'indietro su una gamba mentre dici sfortuna vattene via tutto qui? andiamo da sascia la scala si trova all'interno abbassa la voce spero funzioni sfortuna sfortuna vattene via sfortuna vai via che cosa succede? scusa sascia avevi ragione sulla scala sono sfortunata sfortuna era solo uno scherzo guarda non succede nulla abbiamo tutti tutti i giorni sì e giorni no ehi che bel pigiama volevo tanto usarlo al party mi è andato tutto storto ma io mi sono divertita oh sì è stato il più bel pigiama party alla quale abbiamo mai partecipato e anche il primo c'era di tutto le storie gli sticker i balli le foto e delle bellissime collane è un giorno sì coni ma ci sia ora sì che ho un pigiama party ahhh a dormire! Tieni gli occhi aperti! Non vogliamo che accada ancora quello che è successo ieri notte! Oh, non ancora! Cutie, proteggimi! Eh? Aiuto! Cosa succede, cani? C'è un mostro sotto al mio letto! Veramente! E dai, cani è la solita! Oggi chi c'è di turno? Io sono andata ieri! Oggi è il turno di Missy! Ho tante cose da fare domani! Devo dormire! Lory, vai tu! Ok, vado io! Fantastico! È il mio turno! Non chiuderò occhio stanotte! La mia solita fortuna! È sempre così! L'unica cosa mostruosa qui è questo cupcake! Bleh! Forse non è stato il mostro! Il mostro fa solo parte della tua immaginazione! Dormi! Grazie per la tua compagnia, Lory! Di nulla! Ora dormi! Coni, non si può continuare così! Devi imparare a dormire da sola! Ma è il mostro! Rilassati! Devi solo contare le pecore! E fare qualcosa che ti piace molto! Come i cupcake! E ridere molto! Farò dei cupcake! Ma se ci sono tanti mostri! Coni, le fantasy sono qui! Loro faranno svanire la paura! Veramente? Come? Con l'elmetto magico! Wow! Un elmetto fantasy! Wow! Non è un elmetto come tanti! È un oggetto magico che dà coraggio a chiunque lo indossa! Ehi, Coni! Ti sta benissimo! Sembri più coraggiosa! Sì! Sì! Sembri una vera fantasy! Ma non è vera magia, giusto? No! Ma guarda com'è felice! Vediamo se riuscirò a dormire! Altrimenti ci penseranno i cuccioli! Oh, no! Ah! Una pecora! Due pecore! Ah! Devo fare i cupcake! Cento pecore! Mille pecore! L'elmetto! Non mi prenderete! Cos'è questa confusione? Che disastro! Cosa stai facendo? Con i consigli di Susu e grazie a questo elmetto magico, le ombre sono sparite! Dobbiamo dirti una cosa, Cani! L'elmetto non ha poteri! Hai sconfitto le tue paure da sola! Veramente? Da sola? Ciò significa che sono molto coraggiosa! E quando sei coraggiosa, i mostri immaginari spariscono! Grazie per aver creduto in me! Magistrì! Wow! Wow! Mi sta venendo sonno! Sì! I mostri! I mostri! Aiuto! I mostri! Ma i mostri non esistono! L'elmetto magico! Ma non hai detto che non era magico? Non importa! Danno a me! Ehi! Come pensi abbiano passato la notte? Ehi! Non dovevate aiutarmi! Non correte! Contare pegole e cose del genere! Sei sicura che siamo al sicuro qui? Mi ho detto che i mostri non esistono! Wow! 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 Prime Babies! Prime Babies! Magic Deer! Sì! Nell'avventura è l'uomo magico! Sì! Prime Babies! Intrappola nel gioco! Ubonus! Se vinco otterrò il cuore alato! Dai! Fammi provare! Non così! Salta! Salta adesso! Sei così noiosa! Inoltre il tablet è mio! Beh! Ok! Va bene! Ma dopo non venirmi a chiedere come ottenere il cuore alato! Ciao Lena! Che cosa ha Dreamy? Non lo so! Sta andando alla montagna fantasy! Andiamo a cercarla! Ok! Andiamo! Un passo di qui! Un passo di qui! Un passo di là! Ed il portale fantasy comparirà! Un bel salto io farò! Delle scale salirò! e il cuore alato otterrò! No! Gira il volante! Gira il volante! Aspetta! Potrebbe addermentarsi prima di parcheggiare correttamente! Sì! Dimmi, Lenny! Guardate che carina! Lena ha creato un videogioco con lei come protagonista! No! Sono veramente io! Io! È pazzesco! Possiamo anche sentirla! Come avrò fatto? Non so come! Ma sono intrappolata qui! Non riesco a muovermi! Come si gioca? Mmm! Ehi! I comandi sono qui! Mi muovo! O meglio! Tu mi muovi! Oh! Sei tu! Sei tu! Ah! Devi muovermi tu! Non ci sono alternative! Ok! Chiaro! Premi il pulsante per saltare! È difficile! Sarà questo? No! Sei tu! Fiu! Il cuore è lato! Forse è l'unico modo per uscire! Puoi contare su di me! Ehi! Ehi! Attenti! Mi rimangono solo due vite! Ah! Dilettante! Fermati! Mi sto stancando! I videogiochi non si stancano mai! Ah! Salta! Salta! Ma non ti stavi stancando? Salta! Voglio giocare! Beh! Devi aspettare! Sei tu che non mi hai fatto giocare! Ah! Ah! Mi resta solo una vita! Oh! È il tuo turno! No! No! Gioca tu! Solo Dreamy può aiutarmi ora! Dov'è Dreamy? Qui! Che succede? Avete bisogno di me? Dreamy! Devi aiutarmi! Sei l'unica che sa giocare meglio di me a questo gioco! Ok! Ok! Ho visto tutto della montagna fantasy! Ma non dicevi che il tablet era tuo e che l'unica che poteva giocare eri tu? Sì, sì, scusa! Qui tutto appartiene a tutti! Ma aiutatemi, per favore! Va bene! Lascia fare la numero uno! Oh! Yeah! Oh! Wow! Incredibile! Fantastico! Forza, Elena! Forza, Dreamy! Forza, Dreamy! Sì! Yeah! Che succede? Il tablet non funziona! È bloccato! È colpa nostra! Oh! Oh! Senti qualcosa! Mmh, aspetta! Come hai detto che sei finita là dentro? Beh, sono entrato in un portale senza accorgermene mentre stavo dicendo... Stavo dicendo... Un bel salto io farò! Un bel salto io farò! Delle scale salirò! Delle scale salirò! Come continuava? Ah, sì! Certo! E il cuore alato otterrò! E il cuore alato otterrò! Sì! Oh! Ehi! Non riesco a muovermi! Wow! Hai avuto un'ottima idea! Andiamo, Dreamy! Ci siamo quasi! Wow! Che emozione! Facciamolo insieme! Prendiamo il cuore alato! Dreamy, sei ancora dentro al videogioco! Grazie, Dreamy! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Magi Tia! Tu sei la migliore! È stato facile! Ho imparato dalla migliore! Wow! Ehi, guardate! Un videogioco! Il miglior cucciolo! Vai, Kitty! Prendila! Il mio cucciolo è più agile! Ora vedrai! Oh, che carino! Ma cosa ci riesce? Ciao ragazze! Come stanno i vostri cuccioli? Beh, così così! Vi abbiamo visto dall'assù! Beh, Dreamy vi ha visto! E ci ha detto tutto! Ciao, Dreamy! E noi siamo scesi ad aiutarvi! Perché i nostri cuccioli sono superagili! Vedrete! Ok, pronti? Al mio! Tre! Uno! Due! Torre Fantasy! No! Non così! Ora diventeremo farti e agili! Per questo motivo dobbiamo allenarci duramente! Mantenere la disciplina e... Mantenere l'ordine! Ehi, aspettate! Ehi, attenzione! Non così! Qui ci si deve allenare! Ora basta! Alleniamoci! Come stavo dicendo, dobbiamo essere costanti! Cominciamo quindi con i tronchi rotanti! Forza, Bru! Vai! Molto bene! Molto bene! Molto male! Andiamo, Kitty! Puoi farcela! Campionessa! Allora, fai vedere che sei il miglior cucciolo del mondo! Seconda prova! Il grande bersaglio! Pronto, Lenny? Via! Oh, scusa! È il nostro turno! Andiamo! Sei la migliore! Terza prova! Le sfere giganti! Forza, vedi! Puoi farcela! Vai, Kitty! Mostra loro che è il miglior cucciolo del mondo! Forza, Kitty! Ben fatto, Kitty! E non dimentichiamoci... Il mulino matto! Forza, puoi farcela! Più veloce! No, non così! Andiamo! Ah, che delusione! Forza, Kitty! Puoi farcela! Avete visto? No! Non credete che stiamo esagerando? Penso di sì! Mi dispiace, Kitty! Stai bene? Ci dispiace tanto! Magica! 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 Che giaccia! Ah, che giaccia! Incredibile! Wow! E ora è il vostro turno! Ah, 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 ah Non mi sono dimenticata di te! Vai ad allenarti!